E Locrese, la medaglia d'oro della gara nazionale Open di Panca Classic. Si tratta di Salvatore Cardillo, giovane Locrese, che ha vinto la gara Open di Panca Piana, tenute San Milano in FILP, la federazione italiana del powerlifting, seguito e accompagnato dal suo coach Marco Bartone, anche lui della città di Zaleuco della società Street Lab. Cardillo risulta il miglior atleta assoluto junior maschile e seconda panca più alta junior nella storia italiana. Ha vinto inoltre il premio come atleta junior con rapporto peso-potenza più alto di tutta la competizione, divenendo oltretutto l'unico atleta junior nella storia del powerlifting italiano ad aver superato i 200 kg di panca. Il coach Bartone, orgoglioso del suo atleta, che in poco tempo è riuscito ad ottenere risultati strepitosi, frutto di un lavoro di sacrificio e determinazione, spiega. La gara, nella prima chiamata a 190 kg, ha ottenuto il record junior, poi la seconda a 201 kg, record junior e senior, e la terza a 203,5 kg, record Open. Salvatore continua l'allenatore, è stato in grado non solo di piazzarsi primo alla gara, ma anche di settare un nuovo record italiano nella categoria peso, 105 kg, riuscendo a sollevare 203,5 kg. dice di essere contento e questo traguardo è stimolante a proseguire, perché la strada è ancora lunga e le soddisfazioni non sono certamente terminate. I complimenti arrivano anche dall'amministrazione comunale di Locri e dall'assessore alle politiche giovanili, Domenica Bumbaca, che si è congratulata con questi giovanissimi atleti che nel campo dello sport stanno portando alto il nome della città e ben rappresentano la comunità.